Buongiorno e benvenuta a questa bella signora, da dove viene? Io vengo da Milano, provincia di Venezia. E come mai è venuta da questo dottore? Perché mi ha portato mio figlio che lo conosceva. Lo posso prendere? Assolutamente sì, è un onore da parte, è un onore veramente. Perché stavo male, 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 avevo male dappertutto, non sapevo neanche io e lui mi ha miracolato. Racconti te che è successo? Poi magari la posso pubblicare, che sono sostanzioni. Lo racconto io in maniera veloce, praticamente mia madre ha 80 anni, si è trovata da essere sostanzialmente nel fisico di una ventenne a una donna di cent'anni. Non sapendo più che pesci pigliare dopo varie comunicazioni con i vari dottori, le solite cose, i soliti pagliativi, mi sono rivolto ovviamente a dottor Pulcini che praticamente in tre sedute con due semplici consigli, semplici per modo di dire, ha riportato la vita mia madre e te ne saremo sempre grati. E quindi non è più depressa? No, assolutamente, rompe le scatole come una volta. Signora benvenuta e allora adesso andiamo verso la terza o la quarta seduta? La terza. La terza, quindi solo con due sedute sono riuscito a fare queste cose. Questa è medicina funzionale, significa che... Grazie, un abbraccio affettuoso e pubblico questa perché è anche per la bellezza di questa signora. Grazie. Grazie.